Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale nutrizione e benessere curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi ci parlerà del rafano, un ortaggio non molto conosciuto e per questo chiediamo a lui quali sono le proprietà e come si utilizza in cucina. Il rafano è un ortaggio, appartiene alla stessa famiglia delle cavolfiori, dei broccoli, cioè le brassicacee o crucifere. È una pianta erbacea perenne, viene coltivata soprattutto per la radice, che ha una forma allungata, un colore biancastro e un sapore dolce con delle note piccanti simili alla senape. Ciò che la caratterizza è che quando viene grattugiata o tagliata, sprigiona un tale aroma che può dare anche lacrimazione e irritazione agli occhi. Viene chiamata anche col nome di barbaforte o creen. Cren è anche il nome che viene dato a una salsa che viene preparata proprio a base di rafano e viene utilizzata soprattutto come condimenti di secondi piatti, quindi canne, pesce o formaggi, oppure viene utilizzata in cucina appunto grattugiata fresco su alcune preparazioni. Un piatto tipico della basilicata è la classica raffanata amatarese, che è una sorta di frittata. Da un punto di vista nutrizionale 100 grammi apportano 48 calorie, quindi abbastanza poche. Contiene diversi sali minerali, potassio, sodio, magnesio. Ciò che lo contraddistingue è comunque l'ottima concentrazione di vitamina C, quindi un buon potere antiossidante insieme ad altre sostanze, quindi che ci aiutano a combattere i radicali liberi. La sostanza che dà questo aroma così forte si chiama sinigrina, che ha delle buone proprietà antibatteriche. Ha poche calorie ed è ricca di fibre, quindi è adatta per le diete ipocaloriche. Contiene potassio, che ci aiuta a mantenere la pressione arteriosa sotto controllo. Facilita la digestione perché stimola la produzione di succhi gastrici e della bile. Ha un buon effetto quindi diuretico, depurativo e anche delle proprietà antinfiammatorie, soprattutto a livello respiratorio ed urinario. Ci sono anche delle controindicazioni per chi magari ne consuma in eccesso? Sì, allora le controindicazioni riguardano soprattutto chi ha problematiche a livello gastrico, renale e intestinale. Ovviamente viene sconsigliato anche per le donne in gravidanza o in allattamento. E poi come dicevamo prima, quando viene grattugiato può dare anche, soprattutto se in grosse quantità, una grossa irritazione e lacrimazione agli occhi. Come lo possiamo preparare in cucina? Appunto, come dicevamo, grattugiato quindi direttamente fresco sulle pietanze. Oppure lo possiamo utilizzare attraverso questa salsa, quindi che è una salsa classica da accompagnamento e si abbina bene a tutti quelli che sono i secondi piatti, sia di carne che di pesce. Grazie dottore per questa novità, visto che non è un ortaggio molto comune sulle tavole degli italiani. Grazie anche ai nostri telespettatori per l'attenzione. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana. Grazie a tutti.